Si parte, il Foggia debutta stasera in campionato allo Zaccheria, la formazione di Brambilla Sfidel Trapani, una delle autorevoli candidate al salto nella categoria superiore. Ambizioso è però anche il Foggia, soprattutto dopo gli ultimi colpi di mercato e dopo che il club rosso-nero si è giudicato il capo canoniere della passata stagione, l'ex attaccante del Picerno Jacopo Murano, che tuttavia sarà assente stasera e nel derby del San Nicola con l'Altamura a causa di una squalifica rimediata nella sfida playoff col Taranto dello scorso maggio. Di necessità virtù dovrà fare Brambilla, che lì davanti dovrà scegliere a chi tra Santaniello e Sarra affidare le chiavi dell'attacco. Probabile conferma del 4-2-3-1 per l'allenatore rosso-nero, che ha recuperato il centrocampista Danzi. Toccherà a lui con Tascone formare la diga in mediana. Per il resto, qualche dubbio sulla trequarti, dove Orlando ed Emmausso si giocano un posto con il secondo favorito e destinato a partire dal primo minuto. Sugli spalti dello Zaccheria, attesi almeno in 7.000, proprio il calore del pubblico amico può dare una mano ai rosso-neri nel complicato debutto. Alla vigilia è stato il tecnico Brambilla a fare il punto della situazione e a spiegare quelle che sono le sensazioni a poche ore dall'ingresso in campo. Si parte, finalmente si inizia, abbiamo grande voglia, i ragazzi hanno voglia di iniziare, hanno voglia di iniziare col piede giusto, quindi siamo pronti. È normale che alla prima di campionato non possiamo essere al massimo come tutte le squadre che iniziano un campionato, però abbiamo avuto dalla Coppa Italia col Monopoli due settimane per allenarci bene, l'abbiamo fatto nella maniera giusta, la condizione è sicuramente migliore e siamo pronti per iniziare questo campionato qua. Murano ha due giornate di squalifica da scontare, quindi non sarà a disposizione, per quanto riguarda Mazzocco e Dariva stiamo aspettando l'esecutività del trasferimento. Sono appena arrivati, quindi devo anche capire come è la condizione atletica, però sono due giocatori più Murano che sicuramente ci daranno una grossa mano in questo campionato.